La Antonio Carraro di Campodarsego cerca 70 dipendenti tra operai, tecnici e ingegneri, da assumere a tempo indeterminato ma finora non si è presentato nessuno. L'azienda offre un contratto metalmeccanico con stipendio lordo di 1.590 euro, attualmente ha 380 dipendenti ed è specializzata nella produzione di trattori compatti e trattorini. Ha da poco inserito nuovi robot in catena di montaggio e ha necessità urgente di mano d'opera che li faccia funzionare. A detta della proprietà, la Antonio Carraro è un'azienda sana capitalizzata con mensa e servizi per i lavoratori.